Il mondo dei gratta e vinci è sempre stato affascinante per molti di noi. C'è qualcosa di emozionante nell'idea di grattare via la copertura di un biglietto e scoprire se hai vinto o meno. Tuttavia, come in ogni gioco d'azzardo, ci sono sempre delle probabilità da considerare e, spesso, non sono a nostro favore. Se si guarda al sito di Lottomatica, è molto chiaro che le probabilità di vincita di un gratta e vinci variano a seconda della tipologia di gioco. Ci sono giochi con una percentuale di vincita del 25%, altri con il 14,90% o addirittura il 7,86%. La probabilità media di vincita, tuttavia, è di 1 su 3,36. Nonostante queste informazioni siano chiaramente presentate sul sito, molte persone continuano a chiedersi perché non riescono mai o quasi mai a trovare biglietti vincenti al di sopra della media. La risposta a questa domanda potrebbe essere sorprendente. Qualcuno fa in modo che i biglietti vincenti non finiscano nelle nostre mani. Non è un segreto che esistono persone disoneste che cercano di manipolare i risultati del gioco d'azzardo in loro favore. E il mondo dei gratta e vinci non fa eccezione. Mentre ci sono state vincite clamorose che dimostrano che non tutti si comportano in modo anomalo, la maggior parte dei giocatori non ha mai visto cifre superiori a 100 euro. Inoltre, la possibilità di ottenere grosse vincite è ovviamente molto bassa, come dimostrano le probabilità di vincere al superenalotto con un 6, pari a 1 su 622.614.630. Tuttavia, molte persone continuano a giocare, anche se il gioco d'azzardo può diventare patologico e rovinare intere famiglie. Ma come fanno le persone disoneste a manipolare il gioco dei gratta e vinci? Una delle truffe più comuni è quella del codice. I rivenditori di biglietti grattano leggermente il biglietto nel punto in cui può essere rivelato il codice che consente all'apparecchio elettronico di verificare se il tagliando è vincente. In questo modo, individuano quelli vincenti se li tengono e mettono in cassa l'importo dell'acquisto, in modo da non destare sospetti. Vendono invece solo i biglietti perdenti con piccolissimi graffiti che i giocatori nemmeno vedono. Tuttavia, non tutti i rivenditori di biglietti sono disonesti e molti giocatori riescono a vincere somme significative. È sempre importante, tuttavia, controllare che i gratta e i vinci che acquistiamo non abbiano segni strani e, in caso contrario, avvertire le autorità competenti. Insomma, come in ogni gioco d'azzardo, le probabilità sono sempre a nostro sfavore. Tuttavia, se decidi di giocare, ricorda sempre di farlo in modo responsabile e di non spendere più di quanto puoi permetteri. Se questo video ti è stato utile ti invito a lasciare un mi piace e ad iscriverti al canale. Grazie. Ci vediamo al prossimo video.